Il terzo pezzo del bastone, la Perla delle Maree, si trova nella giungla di Rovo Tortola. Serpinos è già sul posto, ma non riesco più a contattarlo. I Naga hanno catturato Pinnus. Sbrigati prima che se lo mangino. Gull Dan contro Sire Lancia Viscina. Così invade nella città appattiscente. La tua anima sarà mia. È ora di cena. Stasera abbiamo zuppa di Moorlock. Salve, collega. Temo di essere nei pasticci. Saresti così cortese da aiutarmi. Mettimi questa mela in testa. Finito. Oh, il Boor. È terribilmente buio qui dentro. Oh, cielo. Sbaglio o si sta scaldando? Sbaglio o si sta scaldando? Grazie. Ci sono andato fin troppo vicino. Torna nel calderone. Mettiti questa mela in testa. La forra di un'avventura. La forra di un'avventura. Finito. Che duro la forra di un'avventura. Chiedere. Quisi conti. Eccolo! Non piantala di frivare! A rapporto! Ma cerca me! Ehi, al volo! Tu, non prendere palla di rete! Ma cerca me! Ehi, al volo! 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 Mi serve solo un momento! Collega! Finisci quel naga! Chi osa evocarmi? Alla battaglia! Alla battaglia! Alla battaglia! A rapporto! Rossiano, mi fa saltire vivo! Alla battaglia! 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 Grazie a tutti.